buonasera a tutti questa sera siamo qui per parlare di depurazione perché siamo praticamente alle porte dell'autunno e quando decidiamo di iniziare una terapia qualsiasi che sia per immunostimolazione visto che andiamo incontro all'inverno quindi come una protezione è sempre importante prima depurarsi per depurazione io intendo eliminare le tossine del nostro fisico per avere un fisico pronto a recepire e assorbire per bene le terapie che dobbiamo fare pensate al classico esempio che facciamo di solito quando uno ha un orto quando io ho un orto un terreno e ci devo seminare qualcosa devo prima togliere le erbacce per far sì che i miei semi portino poi a dei buoni frutti la stessa cosa se consideriamo praticamente il nostro corpo come se fosse un orto un giardino se vi piace di più dobbiamo pulirlo depurarlo dalle tossine in modo da poter attecchire poi con dei prodotti nuovi allora ci sono delle piante praticamente che sono molto utili per la depurazione e in questo caso possiamo parlare per esempio suggerire del cardomariano che va a depurare depurare il fegato oppure il carciofo il tarassaco sono le cosiddette erbe droghe amare che servono proprio per far lavorare in maniera ottimale il nostro fegato e drenare ed eliminare tutte le tossine nocive ma abbiamo anche la bardana per esempio che è un detossificante della pelle quindi può essere considerato un ottimo depurativo ho questa sera con me anche però un esperto e il nostro personal trainer che ci deve dare un aiuto in questo senso quando depuriamo esiste qualche esercizio fisico anche che mi può aiutare a smaltire eliminare le tossine io le chiamo tossine ma diciamo eliminare di troppo il di più per il nostro fisico sì buonasera a me antonella e buonasera a tutti i telespettatori allora quando per riagganciarmi a quello che stavi dicendo quando si parla di depurazione si parla di principio di omeostasi cioè il riequilibrio di tutto il corpo in sostanza l'attività fisica tende a generare omeostasi un po su tutti i fronti anche in questo caso per quanto riguarda la depurazione l'attività fisica può essere un grandissimo aiuto agli integratori di cui stavi parlando perché perché attraverso dell'attività motoria io la chiamo aerobica fondamentalmente a bassa intensità medio bassa intensità è possibile proprio aiutare tutto il corpo a ritrovare quell'equilibrio a favorire questa questo scarico questa liberazione di tutte le tossine facendo degli esercizi molto banali si va dalla camminata una camminata molto leggera durante la sera ma anche ma anche la mattina presto per chi ha la possibilità di andare in bicicletta un'ottima biciclettata l'importante è sempre lavorare a frequenze cardiaca basse io quando parlo di frequenze cardiaca basse parlo di un 60 per cento rispetto alla frequenza cardiaca massima quindi con un banale calcolo si può calcolare la frequenza cardiaca massima di ognuno di noi facendo 220 meno la propria età e questo dovrebbe essere la frequenza cardiaca alla quale non bisogna andare oltre di questo si calcola il 60 per cento 60 70 per cento è un'attività medio medio bassa di intensità che permette proprio il defluire di tutte queste tossine che tendono a intensare un po il sistema sia circolatorio che sistema linfatico ecco ma io ti chiedo anche un altro suggerimento perché non tutte noi abbiamo il tempo di fare la camminata poi andiamo verso anche una stagione che a volte piove a volte fa un po più freddo così se tu facessi una lezione ok come personal trainer in casa cosa suggeriresti alla tua allieva che deve depurarsi allora qualche esercizio semplice che possiamo fare insieme esercizi muscolari che possono essere i classici affondi a corpo libero squat esercizi sempre con carichi molto bassi ripetuti nel tempo è chiaro che gli esercizi muscolari da questo punto di vista che sono quelli canonici che vengono fatti anche in casa incidono meno rispetto all'attività proprio aerobica quindi chi ha la possibilità di avere magari un tapirulam piuttosto che una cicletta in casa sicuramente otterrà dei dei vantaggi migliori rispetto a chi fa tanti esercizi muscolari che in questo caso aiutano un po pochino un po meno un po meno ringraziamo il nostro dottor chiappa roberto per i suoi preziosi consigli vi aspettiamo alla prossima puntata arrivederci buona serata buona serata a tutti